E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Potrebbe diventare il gol più importante del campionato. Di sicuro è stato il golden moment della 34esima giornata della Serie A Team. Allianz Stadium, Torino, minuto 90 della sida Scudetto. Con un colpo di testa il Napoli ha fatto crollare le certezze della Juventus. Ha abbattuto lo svantaggio in classifica da 4 a un punto soltanto. E adesso si prepara alla volata Scudetto. Il testa a testa che diventa addirittura spareggio. 4 giornate, 4 finali incrociate e quelle del Napoli sulla carta sono più semplici. Tutto merito di questo gigante sedegalese che Rafa Benitez portò a Napoli. E' forte a livello fisico, ma termotatticamente, si diceva, perfetto per Sarri che ci ha lavorato su e ne ha fatto uno dei difensori più forti in Italia, ambito adesso da mezza Europa. Un'azione, un gol, che è anche un po' una nemesi per l'allenatore del Napoli. Prima che nascesse il sarrismo, ai tempi della Serie C, Sarri era etichettato come Mister 33 Schemi, per la cura maniacale che metteva nella preparazione della battuta il calcio d'angolo. Coulibaly!